Se anche tu vuoi la squadra dei tuoi sogni devi da pagà e dato che devi da pagà vai qua e risparmi Link in descrizione Ciao Hakuna Matata ragazzi ben ritrovati dal vostro CiccioM89 Questa sera a posto di Outlast perché non riusciamo a registrarlo Dato che comunque già sono le due del pomeriggio di oggi praticamente Sfacciamo uno spacchettamento Sfacciamo proprio Sfacciamo Esatto Il bastardo di mio fratello Non dico quello che ho trovato perché non è uscito il video E il bastardo di un altro youtuber che saluto Hanno trovato Toz Un Toz Hanno trovato un Toz Se oggi io non trovo un Toz Perché adesso sto su PC non sto più su Xbox One Sto su PC Quindi io c'ho la rosa di merda Cioè c'ho la rosa bronzo Dovessi trovare qualcosa di buono Se non trovo qualcuno della Lega Spagnola Oh Ronaldo Perché oggi siamo a caccia di Ronaldo Esatto Ho messo Mencazzo Però ho visto che l'altra volta T'ho portato fortuna con questa Sì Nel video poi nel mio vedrete in questa qui Ma ma la rimetto Sa rimetterci di prova Ma sono pronto Ma è pure storta La posa è messa Storta Va bene così Ah no Deve essere dritta Perfetto Signori È pronto Se volete altri spacchettamenti L'altra volta abbiamo fatto 5.000 mi piace Questa volta 6.000 6.000 6.000 mi piace E due E facciamo l'altro spacchettamento La prossima settimana Tra l'altro guardate i crediti Come avete visto sto collaborando con FIFA Credit Ci danno i crediti che io vi faccio i video E noi spacchettiamo Stiamo tutti con te Voglio Ronaldo Va bene Che non ti fa schifo Quelle Ronaldo 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 Voglio Ronaldo Vai primo pacchetto Porca puttana Megacanartico Usa il sciaga subito Subito Vai io da reggo vai Ronaldo Ronaldo Eh Vaffanculo Rosic Eh Io Rosic Io Rosisky Rosisky ma non apra Eh Bender Non in futuro l'abbiamo trovato Bender Va al culo Eh si E qua che abbiamo trovato una cippa Carai Abbiamo ritrovato una cippa Eh che culo Perfetto Bella merda Quindi facciamo Invia club Vai Inviamo tutto qua Giaco questa si è fatta la squadra Si è fatta la squadra Che bello No fai con start Con start Vai Vai Ronaldo Vai Un toz Voglio un toz grosso così Un tozzetto Un maritozza Avano Voglio così Guarda poi si pure mezzo baggato Guarda da mezzo aperto E questo lo faccio Lennon Vabbè Ma ho trovato un portiere Ma Allora è problema Hai trovato uno spagnolo però Si Guarda da là Si ho visto Cristian Tellù Edoardo Michele No Qua Della Guarda Ma non mi è contenta però È carino Questo vedi È spagnolo però Si 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 è spagnolo Ma no Che bello Tu volevi uno spagnolo Oh 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 Attenzione Ti ti danno 4 mila a sé grazie riscatto oggetto i big money proprio andiamo sopra la scuola e grazie a cavolo russi vuoi con le cose tanzi mai concentrato gli occhi io dirò che come viene un ronaldo che tipo esce così se te ce l'ho chiuso che aspetta la gira la gira poi dico io e mario sentono gli influssi ronaldo io sento messi dici messi altri e vai ma poi la cosa bella che loro già sanno quello che c'è uno due le contraie le contraie abbiamo trovato ingler ma se con che pacchetti di merda speluso bella merda mi si aspetta guarda questo qua quanto è bello cosa si vabbè è che bello ma che ne so ma comunque non sto trovando neanche gli oro neanche gli oro quelli importanti a malaria c'è stai a mettere a sto pacchetto a malaria signori pollice nel su e moesce ronaldo pollice nel su nastri vabbè è buono mi non è un tot sarenato renato renato capito nastri però è buono eh si si nastri è buono è Bekovic tutti i mortieri stanno a trovare renato 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 sorchetto ho trovato ho trovato ti telefonerò che merda di pacchetto a divisa è barcellona grazie grazie gra grazie veramente grazie fai così io un po' ti giro passi no vai vai gira tua asseda simu pronto vai 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 pensa se tu sei sfida vai simu vai gira gira simu gira gira simu gira gira simu gira a ma gli fin hakitpe modo per nanya l'alessis denis gira Camposhozu un virus di tutto giro Deserendersiино me la ta st규 poked e belli è e realzò c'è tanta spagnolo aspetta proprio ma così a scartatuto sì ma condivido inf имеvate vado a termi col Maus col Maus il mouse compriamo questo vai si prende 5.000 perché quello a 75 ma è dato non dico niente doveva portare a culo dimo niente e dimo niente cazzo di mouse da mezzo no 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 mignotta 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 abbiamo trovato dai cazzo ma dai ma che vabbè ora già che ma già in doppione è che culo smaccare quattro pacchetti in doppione gioca la fama con il mouse sul top quanto vuoi grosso sto totta se voglio un grosso così volentotto se big perché in altra volta vai vai acquistamo sì vai lasciate il mouse qua la vera lascia il mouse sopra la parola chiudito 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 gira gira simone ahhh uuuu super saiale quinto liberato già far abbiamo trovato già far ma chi è? pasquale 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 jaffar pasquale adesso questa patato ah no prato patato puzzuelo ma il santo sei brutto mamma mia pare polvere no mamma mia che abbiamo trovato è una merda cazzo roga le ha messo mouse sopra ma veramente mamma mia le ha messo mouse aspetta qua fammi scartare dai che stai trovato delle ottime cose te ma veramente è la merda più assoluta vai sai ti dico vai mi dà fiducia lui guarda qua la faccetta mi dà proprio fiducia no me dà fiducia simpatico dimmi mica tanto eh no è simpatico si muo mi non mi sta tanto simpatico è simpatico vai ahhh ahhh munion mulan nemmo trovato munian munian borini che cazzo che cazzo che cazzo ma che schifo che schifo vai questi si che sono macchetti mamma mia questi si e te pareva questo trovertoz quel lato trovertoz io trovo sto cazzo trovo è tutto un cazzo è tutto un cazzo è tutto un cazzo qua c'è un cazzo guarda la vibrazione qua c'è sta niente la vibrazione chi è? kin chi è? kin ed tramvetola sa? madonna m tivo ho scureggiato però sssssssssssssssssssstss Era il destino No no lascia fare Toz Toz Vuoi un toz Un toz Gigante Tozzetto gigante TINAAAARALDO Company Ma Abbiamo una company Company Ma porco Poi chi ce sta Cigarini Nickelon Paletta Vanno armare questa tono La paletta vanno armare La maffè castelli Con Cigarini Guarda adesso Barcos Eh amicos C'è sta pure leno No no che sa mai cosa c'è Dai ma guardate Che schi Oh tu si Bello proprio Ma mia Solo io posso dare il toz Sì sì Va Te la paura Che toz Se quando hai trovato Ho trovato da porra Così l'ho trovato Gira te Gira te Gira te Gira te Gira te Sulla dem için Sisse 2 1 9 5 10 11 13 13 1 12 9 12 1 1 2 terzo nero per napoli ma con gli enerchezza vabbè o qualche energia c'era qualcosa abbiamo trovato non è un tot se è un top è un top mancazza sulla finale vabbè ma è terzo del napoli ma quarta culo portare a girasse ma che mi sta la mano qua io sentivo l'energia ah è vero è vero quindi mo te rigiriamo per forza però io lo sai farei visto che l'ultimo comprei prima una 75 poi mai ma qui non si è cicato no ti va proprio così guarda 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 insieme a 3 e 1 2 e a potenza l'uomo vabbè un boccan un boccan primo l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto a bomba sento energia positiva a sento ok che hai sentito Romagnoli eh che culo ne credo vaffanculo i consigli i consigli vanno acquisti orco 2 adesso ve lo dico l'ultimo pacchetto d'oro l'ultimo pacchetto d'oro l'ultimo pacchetto d'oro da 7500 adesso io voglio un toz blu bianco e viola che tanto qua dicono ma non escono e io non dico niente oh ronaldo mi fa cazzare ronaldo bent bentistap standard andurgiaee vaffanculo l'energia positiva e tanti spennogli i crediti cazzo ne frega no voglio trovarlo vai si replica no si replica non dico niente ma si replica toz così toz così io non lo sapevo perchè si replica toz costille non c'è cazzo proprio costille mollo pur io mollo vabbè signori io direi che castagna io direi che lo spacchettamento che oggi può finire qua comunque non è andata malissimo a me mando del contentino può andare un pochino meglio basta dai ma dai sti cazzi perdito magico guarda sento l'energia sento l'energia ambobazzo amore bieta a bieta signori pollice nezzo commentate condividete la prossima settimana 6.000 like prossimo spacchettamento incredibile ciao ciao che porco te le varie tutti trovano i dozzi strizz nets io non trovo un cazzo